Stai calmo, oggi stai proprio su di giri Voglio c'è alcun internet Sta proprio fu... oggi sta così Sta proprio... ma perché? È successo qualcosa Le cose che piacciono a me, va boh Ed è giusto, però le cose che piacciono a te Può andare bene il cellulare Ma non i dolci che non puoi mangiare No, proprio che bucassi alle mele di pomà